Una situazione paradossale che è anche dell'incredibile. Dal 22 giugno scorso via San Gabriele della Dolorata all'Aquila nella zona di San Sisto è completamente chiusa. Il motivo? Un'antica fornace di proprietà privata che risulta pericolante al rischio crollo. Da anni così almeno 12 ci spiegano. Il guaio è che in zona insistono tantissime attività commerciali ma anche molte famiglie che abitano in condomini ristrutturati e che tra due mesi circa sono completamente tagliate fuori. Un disabile addirittura non può più uscire da casa. Commercianti e famiglie sono barricati e infuriati anche perché non esiste una viabilità alternativa e nessun intervento si sta portando avanti. Commercianti e famiglie stanno portando avanti tra l'altro anche una raccolta firme per chiedere al comune di intervenire al più presto. Come si può vedere anche dalle riprese qui spiegamente in via San Gabriele e da due mesi le famiglie sono completamente isolate di cui il problema più grande che a distanza di 50 metri da qui ci sono anche delle persone disabili. Se eventualmente dovrebbe intervenire un'ambulanza io non so realmente che cosa potrà succedere. Questa è la cosa più importante. Una situazione che è resa ancora più pesante dalla chiusura della vicina via Aldomoro interessata lo scorso 25 luglio da una frana che ha interrotto la viabilità nell'importante arteria di collegamento per la zona di Valle Pretara e per la quale c'è un'inchiesta della procura. La strada è stata messa a rischio crollo dall'intervento di abbattimento di un palazzo adiacente al manto stradale. I lavori di scavo delle fondamenta del palazzo hanno sottratto stabilità al manto stradale che è rovinosamente franato. La strada è chiusa a qualsiasi passaggio sia di auto che di pedoni per la salvaguardia dell'incolumità ma nessuna rassicurazione in ordine a un intervento di ripristino della viabilità è stata data agli operatori residenti del quartiere che hanno addirittura sentito parlare di oltre sei mesi di chiusura. Tante dicevamo le attività commerciali che alimentavano i servizi primati nel quartiere costrette ora a fare i conti con l'interruzione di affluenza dovuta senza dubbio al repentino blocco della strada. Queste attività commerciali che sono in questa zona sono già allo stremo visto che la crisi è già totale. Con queste chiusure delle strade sia di via Aldomoro che di via San Gabriele addolorata purtroppo non potremo vivere a lungo. Il problema più grande è che le istituzioni in questo momento via San Gabriele è chiusa da due mesi. Ogni giorno dicono sì stiamo provvedendo stiamo facendo ma in realtà queste cose non stanno andando avanti. via Aldomoro che è una di quelle strade principali in questo momento la viabilità è completamente chiusa cioè per arrivare alle attività commerciali i clienti non sanno come fare. La cosa più importante è che fra qualche giorno ripartiranno le scuole e in quelle zone in cui la viabilità pullman, scuole, poste, banche e quant'altro sono irraggiungibili.